Eccoci arrivati, e questo è Kaori. Vieni nel Giappone per studiare. Parli italiano? Poco poco. Avrai fame? Poco poco. Pira d'Alpia. Filadelfia, assaggia. Senti com'è cremoso. Buono, vero? Kaori, stai con me per sempre? No, poco poco. Ma sono solo queste parole. Filadelfia? Sì, tanto tanto. Kaori, sei unica. Pira d'Alpia unico. Filadelfia, il gusto unico, inimitabile. Kraft, cose buone dal mondo. Ah, Dino R. Collofit. Collofit, giusto collo. E se va bene a me, buona camicia a tutti. Dino R. Collofit. Proprio una camicia coi baffi. Il tempo non ha cambiato questa terra e la sua gente. L'unica cosa che si rinnova ad ogni stagione sono i frutti di quest'amore tra l'uomo e la terra. Noi di Valfrutta manteniamo sempre viva quest'antica unione, perché è soltanto un'autentica passione dai frutti migliori, come le tenere verdure e il gusto intenso dei legumi. Valfrutta, la natura di prima mano. Quando sei raffreddato, rinazzina spray nasale. Libera il tuo naso. Evitare l'uso prolungato. Scopri i nuovi sapori del benessere. Scopri i pani del mulino bianco. Morbidi, ricchi di cereali più buoni, per dare leggerezza e sapore alla tua tavola. Li trovi di soia, di cinque cereali, integrale, bianco e anche di segale, nuovo, dal gusto più delicato. Mangia sano, torna alla natura, col mulino bianco barilla. Sta schiarendo. Morbido. È l'aurora? No. È per l'ana bella aurora. Una morbidezza nuova. Che profumo. È l'aurora? No. È per l'ana bella aurora. Una freschezza nuova. È l'aurora? No. È per l'ana bella aurora. Per l'ana bella aurora, la fresca morbidezza del nuovo giorno. Passaparola. Per vivere meglio, prenditi a cuore. Olio cuore, più cuore, più benessere. Mani arrossate dal freddo? S.O.S. Crema GliSolid. Mani segnate dalla giornata? S.O.S. Crema GliSolid. Ricca di glicerina. Ridona morbidezza alle mani. Crema GliSolid. Specialista delle mani. Vorrei cantare insieme a voi In Magica Armonia Magica Armonia Auguri Coca-Cola e poi Un coro in compagnia Canta insieme a noi Auguri Coca-Cola e poi Un coro in armonia Cantare tutti insieme a noi Un gran 92 Quello che si annuncia su Rai 2 La fiction L'informazione Il cinema L'intrattenimento La parola alle immagini e ai protagonisti Rai 2 per voi nel 92 Domenica 21.30 Rai 2 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 Grazie a tutti.